Salve a tutti amici ma soprattutto amiche del web oggi tratteremo un paio di argomenti il primo è i bambini di oggi e l'educazione ormai l'educazione diciamo non esiste quasi più i bambini basta fare un piccolo capriccio che i genitori ci comprano tutto io mi ricordo quando ero piccolino se facevo un capriccio erano dolori vedi un bambino di 5-6 anni con l'iPhone ti rendi conto cosa vuol dire bambini di allora e bambini di adesso i bambini di oggi hanno tutto basta fare un qualsiasi cosa giustamente i genitori glielo comprano e qui sbagliano perché dopo lo vizi il bambino perché poi il vizio del bambino se lo porterà anche da adulto giustamente io l'ho avuto da bambino e non l'ho da grande non mi sembra giusto poi nella sua mente ecco e su questo argomento c'è molto da riflettere molto da riflettere addirittura vedo tablet in mano ai bambini di 2 anni e mezzo 3 anni che giocano ma ci rendiamo conto cosa vuol dire signori ma svegliamoci un po' ma ci vogliamo svegliare ma io dico ai genitori ma il ceravello è tenito basta dire no non è per te che i bambini sono furbi sono molto più furbi degli adulti ed è questo ed è un male bisogna educarli bene i bambini perciò dico vicino ai genitori fate i genitori non viziate li mi raccomando se no poi saranno cavoli amari per loro il prossimo argomento è l'amicizia esiste ancora sì esiste ancora no cioè se l'amicizia è forte persiste dico questa è la grande amicizia una canzone di Riccardo Cocciante fa così andrei a piedi certamente a Bologna per un amico in più na 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 forse ci guadagno qualche cosa di più vero amico tu chiedo scusa al grande maestro Riccardo Cocciante breve strofe usate ma era solo per dire che la vera amicizia esiste per me per me attenzione per me la vera amicizia esiste ma esiste veramente per me l'amicizia è sacra iscriviti al canale per non perdere i prossimi video lascia un like condividiamo il video sui social un saluto a tutti dal vostro amico al prossimo video grazie a tutti Grazie.